Sono 590 i positivi registrati nelle ultime 24 ore, sono stati superati i 100.000 positivi in provincia di Caltanissetta, sono 102 in tutto i guariti, nel dettaglio ciò che riguarda la città nello specifico, quindi sono 123 i nuovi pazienti positivi registrati nelle ultime 24 ore nel capoluogo Nisseno, mentre sono 188 quelli registrati a Gela. A Caltanissetta sono 1744, i numeri aumentano i positivi in quarantena domiciliare, 15 i ricoverati e 2 in malattie infettive e 2 i ricoverati in terapia intensiva. Aumentano il numero dei ricoveri sia in malattie infettive che in terapia intensiva, 9 attualmente i ricoverati in terapia intensiva, 69 i ricoverati in malattie infettive.